Musica Bilancio di previsione 2023-2025, settimana di lavori nelle varie commissioni PNRR, Corte dei Conti, in Piemonte i controlli saranno a campione Corecom restituiti 1,4 milioni ai piemontesi Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Fitta settimana di lavoro nelle commissioni consigliari per l'esame del bilancio di previsione 2023-2025 Settimana di lavori per l'illustrazione del bilancio di previsione 2023-2025 Nelle varie commissioni che hanno proseguito a licenziare il provvedimento Dopo le relazioni degli assessori per le materie di loro competenza In attesa del voto finale in prima commissione che porterà il DDL in aula In sesta commissione è stato annunciato che per il 2023 saranno stanziati 1,86 milioni di euro Per la promozione degli eventi turistico-sportivi internazionali Mentre 8,3 milioni andranno a enti e società per la diffusione delle attività sportive 1,7 saranno destinati alle ATP Finals per le quali è previsto un contributo complessivo di 7,5 milioni fino al 2025 Tra le principali novità illustrate in quarta commissione L'incremento da 500.000 a 700.000 euro annuali per il triennio 2023-2025 per gli oratori In settima commissione sono stati illustrati i capitoli del bilancio in materia di enti locali Tra le voci più significative lo stanziamento di 14 milioni di euro necessari per lo svolgimento delle elezioni regionali 2024 Per il Fondo Sociale per la Casa sono stati stanziati 9,7 milioni per il 2023 A tale somma si aggiungerà un'ulteriore integrazione di 2,5 in fase di assestamento di bilancio Per una cifra complessiva di 12,2 milioni Queste le cifre fornite in seconda commissione in materia di politiche della Casa Per quanto riguarda l'ambito urbanistico l'assessore competente ha annunciato che sono stati inseriti 2 milioni di euro in più Da destinare ai comuni per adeguare i loro piani regolatori alle nuove norme urbanistiche In terza commissione è stato sottolineato che grazie al cofinanziamento del piano strategico PAC Con fondi regionali, statali ed europei ammonta a 26 milioni di euro annuali La cifra di cui disporrà l'agricoltura piemontese Per il settore commercio nel 2023 il budget ammonterà a 6 milioni 482 mila euro Per il turismo invece si potrà contare su circa 21 milioni 800 mila euro annui La commissione bilancio ha licenziato a maggioranza giovedì mattina la legge di stabilità regionale 2023 Propedeutica al bilancio di previsione di cui si è svolta la discussione generale E votati alcuni articoli ma per il quale al momento sono già stati depositati oltre 280 emendamenti Il testo potrebbe essere licenziato entro il 6 aprile e approdare in aula per le giornate del 12, 13 e 14 aprile In ogni caso, qualora non si completasse l'iter di commissione entro il 6 La giunta si riserverà di richiamare il testo in aula comunque per il 12 aprile PNRR, in Piemonte i progetti sono oltre 10 mila e i controlli saranno a campione Il Piemonte ha per il PNRR al momento attuale un costo ammesso di 4,2 miliardi Compresa una quota di progetti nazionali Come si evidenzia dal sistema Regis, banca dati del MEF Distribuiti su 10.093 progetti presentati da 1.845 soggetti Lo ha evidenziato la presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Maria Teresa Polito durante l'audizione in commissione bilancio Sullo stato dell'arte del piano nazionale ripresa e resilienza Nonché sulla gestione delle leggi di spesa su cui la Corte dei Conti, è stato sottolineato Esercita un ruolo preventivo e di ausilio relativamente agli enti locali del territorio Individuare i margini di rischio sia nell'attuazione, sia nell'infiltrazione Sia nelle difficoltà che gli enti possono avere In una realtà come quella piemontese, che è piena di piccoli enti Difficoltà ce ne sono tante Bisogna mettercela tutta però, perché un'occasione di questo tipo è irripetibile Per quanto riguarda le leggi di spesa, il primo referendario Laura Alesiani Nel corso della sua relazione ha espresso apprezzamento per gli strumenti di valutazione E monitoraggio finanziario di cui si è dotato il Consiglio E ha invitato a proseguire il lavoro a livello regionale Sottolineando l'esigenza che l'iter legislativo di approvazione delle norme Anche con riguardo agli emendamenti Debba ricevere una preventiva e adeguata quantificazione degli oneri finanziari correlati Corecom nel 2022 sono stati restituiti 1,4 milioni ai piemontesi Gestite tramite concilia web oltre 4.600 istanze di contenzioso Grazie alle conciliazioni e definizioni delle controversie tra utenti e operatori di telefonia E pay tv condotte dal Corecom Piemonte Nel corso del 2022 sono stati restituiti ai cittadini piemontesi 1,4 milioni di euro Le istanze di contenzioso ricevute tramite concilia web sono state 4.683 Di cui 3.243 in udienza e 1.070 in procedura semplificata Questi i numeri dell'attività condotta dal Comitato regionale per le comunicazioni nel 2022 Per quanto riguarda invece la delega di definizione Il Corecom Piemonte ha ricevuto 370 istanze Oltre alle 17 trasmesse all'Agicom per competenza e ne ha chiuse 479 Sono invece 516 le domande pervenute per procedura d'urgenza per l'attivazione del servizio sospeso Di queste 395 richieste sono state soddisfatte con la riattivazione spontanea da parte dell'operatore Mentre 121 sono stati i provvedimenti temporanei A livello dei Corecom nazionali siamo quelli che hanno raggiunto le performance più alti Siamo un ottimo esempio sia da un punto di vista normativo sia da un punto di vista organizzativo Il Corecom cerca di essere sempre il più possibile vicino ai cittadini Ed effettivamente per quanto riguarda la risoluzione delle controversie Che è una delle attività principali di cui si deve occupare il Corecom Fortunatamente siamo riusciti a gestire tutte le istanze che sono pervenute In tempi peraltro sempre più brevi E questo ovviamente non può che essere vantaggioso per gli utenti che si rivolgono al Corecom Nasce la rete e tematica regionale per la conoscenza della storia Dalla lotta di liberazione fino alla nascita della Repubblica e della Costituzione Firmato in Salaviglione il protocollo d'intesa che prevede progettualità comuni su tutto il territorio Promuovere attività e realizzare iniziative per la diffusione e valorizzazione della conoscenza storica e del territorio Anche attraverso la rete documentale integrata degli archivi sul Novecento Questi alcuni degli obiettivi previsti dal protocollo d'intesa triennale Che il Consiglio regionale del Piemonte Regione Piemonte, Associazione Memoria della Benedicta, Fondazione Nutorevelli, Fondazione Polo del Novecento Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce e Comitato della Resistenza Colle dell'IS APS Hanno sottoscritto a Palazzo Lascaris Il senso di questa cosa è un lavoro di squadra, è un lavoro di condivisione ed è un lavoro di promozione I territori sono importanti, i territori sono importanti perché la Resistenza ha avuto radici in ogni parte del paese Ricostituire questa unità territoriale è un bel progetto a cui noi aderiamo con molta convinzione Voi che passate il testimone Concerto di Vinicio Caposela dedicato alle stafette partigiane per celebrare la festa della Liberazione 2023 L'evento promosso dalla città di Torino con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale Sarà a ingresso gratuito Caposela si esibirà martedì 25 aprile alle 21 all'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino Nel termine stesso staffetta è inserito proprio questo passaggio del testimone Il passaggio del testimone è avvenuto grazie ai testimoni A quanti si sono spesi dopo aver preso parte, viva, alla Resistenza Ci hanno informato, non sapremmo il ruolo del testimone, la storia ce lo insegna Primo Levi Visto che siamo a Torino, è un ruolo essenziale Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti